Tra allenatore e arbitro di solito, almeno nel calcio italiano, volano epiteti del tipo cornuto, venduto, ladro e via discorrendo. Ma può capitare qualche volta che un mister particolarmente attento alla bellezza degli assistenti di campo se ne esca anche con un entusiastico bonazza. Lui è l'allenatore della Juventus de Santa Caterina e il brasiliano Celso Teixera che è meglio conosciuto come El Loco, mentre l'avvenente arbitro in calzoncini è Mayra Americano Labes, una bellissima 25enne che oltre alla passione per il calcio è personal trainer e insegnante di Zumba. Con quel fisico scolpito al punto giusto e l'uniforme striminzita, l'allenatore non ha potuto far altro che distrarsi ogni tanto e puntare il suo lato B piuttosto che la palla in campo, arrivando persino ad apostrofarla come gostosa. L'assistente 25enne ha poi commentato l'episodio su Instagram, la bellezza dovrebbe passare inosservata, mi piacerebbe che le donne fossero riconosciute soltanto per il loro lavoro, mentre El Loco è stato espulso.